Benvenuti a questa nuova intervista al nostro consigliere regionale Maurizio Mangialardi e questa cacchierata che ogni tanto, ogni mese, ogni due mesi ci incontriamo per fare il punto della situazione. Perciò ci togliamo la mascherina perché stiamo ad una distanza come prevede. La prima domanda sarà una domanda tra bocchetto. La prima domanda che vuole fare a Maurizio in questo momento è se lui si sente un politico o un tecnico. Politico firmato. Perché adesso arrivano tutti questi tecnici con le soluzioni in mano. Ci sono momenti dove la politica non riesce a svolgere al meglio il proprio compito e ci si deve affidare a tecnici. Però io sono politico, assolutamente. Non ho quella presunzione di essere tecnico. A me personalmente mi piacciono più i politici. Ovvio. Perché 2 più 2 fa 4, però qualche volta bisogna anche... Perché la politica con la P maiuscola è un'arte importante. Bisogna avere competenze, conoscenze, capacità. Non ci si inventa su nulla. Anche un tecnico fa difficoltà diventare politico. Poi magari col tempo è anche bravo, però un po' di rodaggio serve sicuro. A questo punto vorrei anche adentrarmi un po' un attimo sulle cose che stanno succedendo in questi ultimi giorni. Draghi, come vedi questa storia? Ancora è lì. Io intanto penso che sia stata una crisi folle nella gestione, nelle modalità, nelle responsabilità. Dopodiché, come dicevamo prima, davanti a un fatto bisogna trovare soluzioni. E ritengo che il Presidente della Repubblica, ancora una volta, da persona saggia, equilibrata, lungimirante, abbia messo questa nazione nelle condizioni di poter svolgere al meglio questo passaggio che è molto delicato. Con Monti eravamo in una nazione al limite della bancarotta. La campanella passata da Berlusconi a Monti era il momento dove lo spread è arrivato a oltre 500, tanto per renderci conto. Oggi siamo in una condizione diversa. Abbiamo tante risorse, tante, da poter investire bene nella nostra nazione e dico pure anche nella nostra regione. Occorre un governo strutturato, politico, anche a guida tecnica, ma politico. Io sono molto fiducioso. Lo dico molto, molto perché Draghi è una persona riconosciuta, rispettata, capace, che è un tecnico, ma tanto politico, perché uno non sta alla BCE per otto anni e non ha capacità di mediare con tutti i capi di Stato se non hai quel tipo di approccio. Quindi sono molto, molto ottimista, se devo dire. Diciamo che non ho le capacità per approfondire l'operato di Draghi. Sinceramente nella mia testa non è che ha fatto delle cose buone per l'Italia, Draghi. Non ha fatto neanche delle cose buone per la Grecia. Ha salvato l'euro. Ma l'euro non è Italia. Beh, l'euro è Italia. Salvare l'euro in quel momento significava salvare anche l'Italia. Ha salvato l'euro e l'ha fatto tenendo conto di una bolla speculativa internazionale che ci poteva essere sull'Europa e inevitabilmente ha ricaduto anche nell'Italia. Però facciamo così. Draghi è la proposta. Adesso vediamo chi ci sta. Vediamo. Vediamo. Perché io sono convinto che ho sentito anche quelle che urlavano, quasi da carciofare, fino a qualche ora fa, che invece l'approccio è molto più attento. Perché oggi siamo chiamati non più a puntare l'indice sulle cose che non vanno e dobbiamo trovare le risposte. Non c'è più... Assolutamente. Assolutamente. Perché la gente è depressa. La gente è depressa. Hai ragione Massimo. Sono depresse le persone, è depresso l'economia, è depresso l'azienda, c'è la disoccupazione, c'è l'occupazione femminile al disastro. I problemi sono grandissimi e di difficile soluzione. Andando un po' più sul, tra virgolette, semplice, perché dal mondo di mezzo, dallo Stato alla Regione è un po' più semplice. Ma non cambia tanto. I problemi lì poi si riverbano normalmente nella Regione e nella vita nostra quotidiana. Diciamo questo, che oggi, Maurizio, sei all'opposizione. Sì. Ci sono delle proposte che hai fatto o delle cose che proponi? Faccele conoscere. Sì, guardate, mi conoscete, io ho fatto il sindaco, quindi ho l'idea del problema-soluzione, non è solo l'opposizione fine a se stessa. E quindi cerco di guidare il gruppo assembleare per mettere a disposizione delle proposte, che sono qualche volta anche alternative, ma le proposte alternative non vuol dire che non siano migliori. Vi faccio un esempio su tutti. sulla scuola, sulla scuola, per la scuola, noi abbiamo detto che dovevamo prepararci alla riapertura. Il Presidente, che è un po' sempre sorpreso da quello che accade, fa il 5 di gennaio un'ordinanza per dire riapriamo il 31 di gennaio perché c'è la pandemia, si erano arancione e voglio tornare giallo. Ma se tu fai un'ordinanza per aprire scuola il 31 vuol dire che forse ti rendi conto che ancora la cosa è complicata. Bene, noi abbiamo detto guardate, stiamo facendo lo screening di massa, che di massa non è perché se riguarda il 20% della popolazione di massa non è. Perché non lo dedichiamo solo, in questa fase, solo alla scuola e quindi tutto il personale dagli insegnanti all'ATA e tutti i ragazzi e i ragazzi. E lo facciamo in maniera sistematica. Non avevamo detto una cosa seria. 800 mila test che potevano essere messi in campo, come sta facendo oggi Lazio, la Toscana, all'ingresso della scuola e avrebbe permesso di iniziare la scuola in assoluta sicurezza. È stato respinto, dopodiché però devono tornare indietro. Oggi mandiamo i nostri ragazzini a fare il tampone magari a 50 km dall'istituto e perché quello era il percorso. Ecco, quando mi dici quei proposte fai. Quando mi dicevi, per esempio, parlavamo fuori microfono, per la città della fotografia abbiamo fatto un emendamento per consentire a Senigallia di avere più risorse. Abbiamo fatto un emendamento per il bilancio, ovviamente è respinto ma non è il problema, per la pista ciclabile sul Cesano e sul Misa. Indubbiamente il popolo non ha recepito bene tutti i DCPM del governo. No, no. Anche perché li ha trovati un po' in quattro si può mangiare, in sei no, alle sei ci fermiamo, alle dieci andiamo a coprifuoco. Bene. Perciò speriamo che queste cose vengano un po'... Io Massimo profitto, perché tu dicevi prima dal grande dello Stato al piccolo della regione, al quotidiano. Ma io rispetto alla pandemia, poi nelle modalità le vediamo, ma andiamo a vedere tutti i giorni che cosa succede in Germania, quello che succede in Francia, quello che succede in Inghilterra, così almeno ci capiamo. Quello che succede in Australia. In Australia ci sono gli Australia Open. In Australia mi scrivo tutti i giorni con un mio amico delle scuole elementari, Elio Mancini, ti faccio anche il nome, che è il viceconsole, perciò è l'ambasciatore 2. Anche lì ci sono tanti problemi. Purtroppo non si può parlare, perché se ti sbilanci un attimo a dire una cosa di qua, non si può neanche più dire da destra o da sinistra. Certo, non allineato o no. Non allineato o no, qui sei fregato e vabbè. No, però è un tema, perché guardate, l'Australia Open giocano a tennis, l'han tenuto i segregati tutti dentro gli alberghi, dentro, quelli, i campioni mondiali che guadagnano... In effetti, questa cosa è una cosa mondiale. Chi l'amministra, c'è chi lo sa, chi non lo sa. Io lo so, ma non lo dico. Chi è che amministra tutta questa cosa, non vorrei passare da complottista. No, 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 io non lo so. Queste cose non lo sa nessuno, tutti lo sanno, comunque va bene. Perciò direi di chiudere questa parte sulla pandemia, su questa cosa e vorrei lasciare la parola alla Rachele che ha una bellissima domanda per te. Vorrei aprire una piccola parentesi riguardo alle leggi sull'aborto. Negli ultimi giorni la maggioranza regionale ha garantito con un comunicato che non verranno attaccati i diritti sanciti dalla legge 194. Ci mancherebbe altro. La questione rimane comunque un po' spinosa. Il PD ha in mente alcuni programmi, qualcosa da attuare per poter garantire la corretta applicazione della legge? Grazie, Rachele, per questa domanda che prima Massimo mi diceva cosa avete fatto. La questione della 194 e poi della RU 486 nasce da un'iniziativa del Partito Democratico in Assemblea, perché l'assessora Latini, dicendo un'intervista analoga a questa, alla RAI ha detto io sono contro l'aborto e farò di tutto per contrastarlo. Questo è un tema, però non si può andare contro la legge. Quella c'è, è una conquista sociale, un diritto che non può essere negato e il governo regionale deve far tutto perché venga applicata al meglio, non al peggio, al meglio. E quindi se c'è da una parte questo tipo di valutazione, io sono molto più preoccupato dei temi come sono stati affrontati e gli argomenti che hanno utilizzato, perché uno dice sono contro, bene, la legge c'è, dice Rachele la faremo al meglio, ma quello che è venuto fuori tra l'altro il giorno della memoria è stata una cosa imbarazzante, guardate non lo faccio con polemiche, andate a vedere le registrazioni, hanno messo in parallelo il fatto della denatalità con l'aborto, che è una cosa abberrante e che la preoccupazione del capogruppo di Fratelli d'Italia non è tanto l'aborto di per sé, ma è in quanto la possibilità di sostituire una razza con un'altra, utilizzando questi parole, il giorno della memoria, una cosa abberrante, non ha chiesto nemmeno scusa, l'è passata così e noi continuiamo, io sono convinto che la 194 qui viene applicata, poi bisogna che la RU venga somministrata nei consultori, come previsto dalla circolare ministeriale, se non basta la circolare ministeriale bisogna attivarsi con il nuovo governo e il Parlamento per far sì che la legge chiarisca questo passaggio, perché sennò iniziano troppe regioni a disattendere quello che è un diritto, poi chi è che è a favore dell'aborto? Nessuno, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro, un diritto però per chi passa in quel tunnel di sofferenza vuol dire pure mettere a disposizione, io speravo che l'assessore e Acquaroli rispondessero così, non vi preoccupate, mettiamo a disposizione dei consultori tutto quello che serve per potenziare, per aiutare la donna che ahimè si trova in quella condizione tragica, e invece hanno detto un'altra cosa, però lo dico sempre, perché uno dice tu sei all'opposizione e sei polemico, no no, io sono all'opposizione, sono oggettivo, l'han detto loro e non può, Raquel, purtroppo più di così non possiamo fare, il sabato c'è una manifestazione ad Ancona per sostenere e messa in campo da tanta società civile. Prima di fermarsi per questa prima puntata di questa intervista, sono molto contento di esserci, lo sapete, grazie, volevo dire una cosa che potrebbe richiedere tre giorni di dibattito, ma è una cosa molto semplice, riguardo al gender, tu sai che il gender oggi sta agendo sulle scuole, su tutto il nostro tessuto sociale, la nuova politica del genitore 1, genitore 2, dentro di me mi sono chiesto ma chissà se ci sarà anche il nonno 1 e il nonno 2. Ma quelle sono cose che sbagliamo proprio anche dal punto di vista dell'approccio comunicativo, proprio sbagliato, proprio sbagliato perché significa demolire una società, quindi non va bene, parlo dal punto di vista terminologico, non entro nel merito, è sbagliato, è sbagliato. Poi nella vita, voi sapete parlate con quello che in questa città, siamo stati i primi in Italia, che hanno fatto il registro delle coppie di fatto, quindi ci voglio dire, non è che anzi, grande sostenitore, anzi antelitteram perché non c'era ancora la legge e alcuni la contrastavano, quindi è proprio uno dei primi comuni in Italia. Ne abbiamo una prenotata per il 23 di settembre a San Rocco, questa volta sono due donne. Ecco, dopo c'è stata la legge, è stato certificato, quello è il percorso, quelle sono le cose, noi facciamo tra l'altro anche con, come dire, facciamo anche riti molto importanti, seri. Bene, dopo questa frizzante chiacchierata ci fermiamo un attimo per poi proporvi la seconda parte per un altro giorno, che ancora non sappiamo qual è, però ci sarà. Va bene, va bene, arrivederci a tutti.